Il senatore Gianluigi Paragone, No Europa per l'Italia, Italia Exit. È venuto a Taranto, che idea si è fatta di questa città? Io Taranto la conosco, intanto Taranto l'ho conosciuto perché c'è un'intensa attività anche culturale, quindi quando soltanto facevo il giornalista avevo occasione di presentare i miei libri. E proprio qui io capì le potenzialità di una città che può essere tranquillamente una città turistica, una città che aggrega sulla base della bellezza, della storia, di un fascino che tra l'altro è un fascino che si proietta per esempio nel museo archeologico che in pochi conoscono, per me Taranto soprattutto è il Marta, se pensate alla bellezza degli ori di Taranto e quanta potenzialità avrebbe. Prima di incontrarci, di fissarci questo appuntamento, il senatore Paragone mi ha detto io devo passare assolutamente dal museo. Io passo sempre dal museo perché quegli ori mi incantano, poi vabbè ci sono anche le anfore, c'è il racconto, c'è l'atleta di Taranto, però vedere negli ori di Taranto un pezzo di quello che poi sarebbe stata l'elaborazione del mondo artigianale italiano, quindi tu trovi la potenzialità di un percorso museale che potresti, non lo so, splittare con altre realtà, accoppiarle con altre realtà che hanno saputo giocare proprio sull'aspetto orafo, ma poi lo insisto, mi dà fastidio che Taranto sia la città di Gotham City, cioè se tu guardi l'Ilva, quello scenario, è Gotham City di Batman, soltanto che qui il crimine è un crimine finanziario. Senatore, dinanzi a noi e prego il nostro operatore di metterlo in mostra, un panorama meraviglioso, la natura è fantastica, ma è possibile che questa città debba vivere col terrore del ricatto occupazionale imposto da Arcelor Mittal quando noi potremmo vivere di altro, di tanto altro, di mare, di turismo, di cultura? L'alternativa c'è, considerando anche che il mercato sta proprio sgretolando i numeri degli occupati. Ilva è un fantasma che cammina, che deambula per questa città e come fantasma spaventa tutti. Fuori di metafora, ancora è fonte di ammaloramento grave, è fonte purtroppo di disperazione. Io mi ricordo un libricino di una potenza incredibile che era Ilva Football Club, dove attraverso il racconto del gioco del calcio, attraverso i tornei aziendali, tu vedevi smontare questa squadra per via dei lutti. Quindi Taranto deve vivere di altro, deve pensarsi oltre Ilva, che ormai è, come dicevo prima, il luogo del crimine finanziario, del crimine industriale. Poi vi dico anche un'altra cosa e credo di incontrare il tuo favore. Non è che la smonti spegnendo l'interruttore, dall'oggi a domani quel mostro si sgretola e viene meno. Tu hai un processo di demolizione, di bonifica, di mantellamento industriale e di bonifica ambientale. Quindi altro che pensare di rilanciare imbrogliando le carte. Adesso ho visto che sul Recovery Fund si parla dell'Ilva a riconversione di idrogeno. Questo è un altro modo per ingannare la gente. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una battaglia sulla chiusura dell'Ilva. Le promesse dei Pentastellate sono state puntualmente tradite e ora sono con il cappello in mano davanti a Mittal. Io vedo che i grandi gruppi industriali, finanziari, sono trattati sempre con i guanti di velluto da parte del governo. Qui è venuto Conte, Patuanelli continua ancora a sperare in una redenzione, in un ripensamento di questo padrone franco interno perché è un vero e proprio padrone, perché si atteggia da padrone che pensa di poter mettere le mani sulle vite delle persone. Allora, a lui di Ilva non frega un tubo, è venuto qua per saccheggiarla, per svuotarla definitivamente. Non ha di fronte un governo con la schiena dritta capace di dirgli tu qua il padrone non lo fai e dovrebbe soltanto chiudere, dire basta, la trattativa è finita e si avvia un processo di smantellamento industriale. In secondo luogo lo stesso atteggiamento ce l'hanno con i padroni delle autostrade Benetton, dove si dice revoca, revoca senza se, ma per ora la revoca non è mai stata fatta. Quindi il Movimento 5 Stelle si è presentato come un cane da guardia forte, che abbagliava di carattere e una volta entrato dentro il palazzo è diventato un cagnolino. E scodinzola. E non ci guava. Per concludere, senatore Paragone, perché l'appoggio a Mario Conca e a cittadini pugliesi? Perché Mario ha vissuto anche lui l'inganno dei 5 Stelle, Mario ha visto il cambiamento dei 5 Stelle, ha visto come un movimento che doveva essere contro il sistema e è diventato parte del sistema. E lui è diventato a tal punto che fa fuori le persone pur di avere uno strapuntino, di avere una poltroncina, un qualcosa. Mario sa benissimo di giocare una partita da outsider, però la gioca, la gioca con l'orgoglio, con la passione. Una battaglia di dignità. Di dignità, di identità, di passione politica. Tanto è che Mario ha finito il percorso delle regionali, a cui io auguro ovviamente di arrivare al Consiglio regionale, perché lo merita, ma lo merita la dignità di quel Consiglio regionale. Io a Mario ho chiesto di essere disponibile per costruire in Puglia il percorso di No Europa per l'Italia e Italexit. E quindi insieme stiamo costruendo questo cantiere che finalmente rimette l'Italia al centro, basta con una unione germanica che allunga i tentacoli su tutti gli altri paesi.